Con noi Nicola Bonito, a pro di quest'anno al Camarath, lo scorso anno hai disputato il campionato di Serie D in Basilicata giocando col Matera. Com'è stata l'esperienza che hai vissuto lo scorso anno? Sicuramente è stata un'esperienza abbastanza importante e abbastanza bella, tra parentesi, perché il campionato di Serie D mostra davvero belle aspettative, bel calcio rispetto all'eccellenza. Anche se devo dire che mi aspettavo qualcosina in più, perché l'eccellenza qui è davvero a livelli quasi un po' più alti rispetto a quelli della Basilicata, però va bene, meno lo stesso. Speriamo di fare bene anche qui del Camarata. L'unione di gruppo e la coesione tra la squadra, quindi i Camaratese, è un punto di forza. Come ti sei trovato con i tuoi compagni di squadra? No, sinceramente abbastanza bene. Sono arrivato io insieme a due ragazzi di Palermo, poi abbiamo fatto subito amicizia con tutti. Credo che il gruppo sia fondamentale per qualsiasi squadra e in questa squadra vedo che anche il mister riesce a tenere in pugno tutti i giocatori e sicuramente faremo abbastanza bene. Ok, grazie. Ti auguriamo un in bocca al lupo. Grazie mille per la disponibilità. Grazie.